e se tirassi fuori questo giocattolino ciao a tutti dal vostro ice e bentornati o benvenuti sul mio canale nonostante tutte le granate sono ancora vivo ragazzi allora video guida al trofeo cacciatore di trofei trova il trofeo hkm 47 barra 2 fucilazzo questo fa ragazzi il tipo che mi ha dato la missione l'ho trovato sotto il ponte al cordon ponte ferroviario distrutto è lì ho interagito con lui questo qua si chiama jasca avvoltoio non fate caso al nome perché probabilmente nel vostro gioco si chiamerà qualcos'altro come dimostrerò poi più avanti perché ho fatto ho fatto 22 possibilità per trovare quest'arma qua perché sono stati due cose diverse qua e una è un'altra allora interagito col tempo mi ha dato la missione come sempre aprite il menu la mappa selezionate vi dice dove ecco il tipo che dice ho appunto lì al ponte ferroviario e lì abbiamo la nostra arma da andare a prendere mi raccomando fate sempre il salvataggio manuali ragazzi perché potrebbe succedere che come in questo caso qua il tipo venga magari assalito dai mutanti e quant'altro e quindi a quel punto lì la missione fallisce non c'è più la possibilità di prendere l'arma se invece avete raccolto l'arma poi il tipo viene ucciso e la missione fallisce non fa niente l'importante che avete preso l'arma se l'avete presa siete a posto tranquilli senza problemi è una volta che arrivate giù dove c'è l'obiettivo dovete salire fare un po di parkour lo troviamo qua nel solaio l'edificio e c'è qua questo frigo qua che gli sono messo 30 anni per caputana prima di riuscire a trovare la soluzione giusta comunque deve essere aperto così come vedete però dare davanti interagire non ci dà cosa per interagire e poi tra l'altro si chiude la porta se andiamo troppo vicino si richiude bisogna è una commedia io sono arrivato qualche era notte sta diventando giorno immaginate voi allora niente l'unica è salire sopra al frigo poi si apre e niente a sinistra del frigo proprio in cima qua vi da la possibilità di fruga ecco frugate e qua trovate l'arma eccola qua io un consiglio che vi do ragazzi l'arma tenetela voi non andate a consegnarla al tipo fa niente anche se dopo la missione fallisce oppure resta lì fino a finita il gioco non importa tenetela voi questa arma qua perché è il fucile automatico più potente che c'è nel gioco c'è delle statistiche bestiali e poi non usa le munizioni 545 come la cappa normale ma usa le munizioni 762 anticarro queste qua 762 da cecchino usate con i fucili e da cecchino appunto le sudi e le svvu e 762 anticarro su quelle col pacco con la riga gialla dietro oppure ci sono anche le 762 normali che il pacco è colore marroncino ma normale la cappa che vi dicevo quella normale usa le 545 trovare le munizioni per questa arma quale 762 dovete andare più avanti nel gioco le trovate nella valle oscura le trovate un po lì dovete interagire con i tipi che ci sono in giro sulla mappa quelli con l'icona col puntino giallo grande e vi segnalano a volte le informazioni sul nascondiglio eccetera andate lì interagite trovate le munizioni per quest'arma altrimenti l'unica è yantar yantar il tipo lì le vende a google proprio ogni tanto andate nel menu nel menu principale pausa guardate le sfide vi da il progresso di ogni sfida qua vediamo barone delle armi dovrebbe essere 3 su 9 invece 2 su 9 non sto qua a spiegarvi adesso perché per come ve lo spiegherò nel video guida al trofeo barone delle armi eccetera poi questa era la seconda possibilità per fare questa missione per prendere questo ak47-2 e prendere il trofeo qua era un'altra run che stavo facendo e le cose erano tutte totalmente diverse qua sotto non c'era nessuno sotto il ponte però c'era già in atto l'attacco dei mutanti ed è per quello che non c'era nessuno sotto il ponte ma il tipo che ci interessa è sopra il ponte in questo caso ed è sempre quello con l'icona col pallino giallo grande quelli che vedete lì i puntini gialli che vedete ecco quelli sono tutti personaggi con cui poter interagire che vi danno magari delle missioni eccetera eccetera qua c'è stato un continuo finire la missione qua di uccidere i mutanti aveva un posto sotto il ponte missione completata e appena la completà o ne ripartiva un altro c'era un altro attacco e quant'altro niente stato lì per un attimino finivano le missioni e poi sono andato su a interagire col tipo di sopra e come vi dicevo il nome può essere diverso difatti questa seconda run il nome del tipo era diverso non è questo ma è quello di là questo qua sono indicati con i puntini gialli quelli piccoli che potete andare l'interagire non mi dice niente l'importante e ti eccoci qua tipo ci interessa orecchie questo qua si chiama avali coca l'altro era era un altro nome e lui ma dato la missione di appunto riporta l'oggetto hkm 47 2 però ma la data solamente dopo aver fatto quelle missioni di difesa di uccidere i mutanti sotto perché io ho già interagito con questo tipo qua e non mi ha mai dato la missione prima di adesso provate ogni tanto andate lì interagite col tipo se vi da finché non vi dà la missione perché aveva da solo lui che è qua al ponte qua al corto non valla da nessun altro e niente andate a prendere l'arma e quant'altro prendete trofeo e buonanotte a secchio e quant'altro ragazzi era tutto ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi statevi bene